E' anche o è? Ok Io non ho visto i design, dove sono? La carta dove va? Sì, dove è? Allora la carta... Sono qua, sono qua i sacchi Guardi qua, guardi No, la carta, ah, lì? Però, vabbè, quello che potrà tenere La plastica c'è, proprio nel sacco che abbiamo fatto della plastica Eccolo qua il sacco, vedi che c'è? Differenziato Vai scrivere che stiamo colendo il bosco Ah, è fatto! Ciao, bravo! E' stato bravo a portarsi tutto Dai Poglio, guardi Questa è... Oh, è reciclo Ho messo qui No, in una carta, cazzo sto Prego, prego, ancora Prego, ancora Prego, si Ancora, ancora Poglione Vai, questa qua è qui ma non è qui No, no questa è un�� E' bello E' bello in modo Eieg politico Gontro Allora, acqua, acqua, acqua.